Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Antonio, senti scusami, l'unica cosa, ma tu vieni a piedi da solo? Ah, no, perché praticamente noi abbiamo appunto questi patti eccetera, però diciamo se il mio collega può arrivare lì con la macchina... Ah, no, no, nel senso che poi ad ora il mio collega lo faccio andare a arrivare là appunto con la macchina, così si... Ok, dopodiché... Ah, va bene, ok, grazie Antonio, grazie, ciao. Ah, no, 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 no... Ah, no, 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 no... Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Sorry guys All of you will come for the dinner tonight Of course Grazie a tutti 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 Grazie a tutti